buongiorno a tutti allora magliettina dell'inter perché sono appena rientrato dall'aver visto la partita al bar con gli amici l'inter fiorentina 2 a 1 poi ho potuto vedere i commenti dei vari personaggi che conosco di youtube eccetera che avevano pareri discordanti sulla partita naturalmente c'era chi si lamentava dell'estetica chi non gliene fregava niente dell'estetica si è vinto chi parlava del calcio di rigore se c'era non c'era chi parlava del calcio di rigore possibile sud ambrosio chi diceva che c'era il rigore di asamoa su chiesa per me si è lanciato quello era un secondo giallo per simulazione non gliela ha venuto dare perché praticamente asamoa era davanti e si vede chiesa che si lancia letteralmente perché la palla non la prendeva più si è lanciato poi ha bestemmiato e se ieri hanno domenica scorsa sabato scorso quel che hanno lì espulso Zayc dell'Empoli se non sbaglio per la stessa cosa giallo è fuori però logicamente non puoi il migliore in campo della partita buttarlo fuori per fatto segno alzati e stop quindi va bene così per me non era rigore né uno né l'altro mentre invece il fallo di mano signori è brutto ma se tu vai a fare yuppie do su un cross e la prendi di mano anche se non fai apposta se fai yuppie do è calcio di rigore perché hai allargato lo spazio hai toccato un pallone c'è poco da fare inutile lamentarsi dire no non c'era l'involontario non è è andato col manino largo con la mano che si allarga sul dispiace tu le manine dietro la schiena come quando giochi al gioco della mela che devi prendere la mela che ha pesa lì è uguale manina dietro se no manina larga rigore e icardi l'ha messa e ha fatto anche l'assist ad ambrosio lui non fa un cazzo ha due palloni un gol e un assist questa è la sua media per il resto poi gira per il campo oggi si è fatto vedere spesso è spesso fatto anche il movimento giusto per essere servito gli davano dei palloni di merda perché veramente oggi allora io vedevo la partita vedevo i nostri esterni perisic non salta all'uomo neanche a piangere arriva fa le sue finta e poi crossa e riesce a crossarla al portiere al difensore a chi per esso mai è un attaccante che andreva dall'altra parte continuava e ti supero e ti risupero e poi ti supero e tiri su continuava avanti e indietro con quello che continuava a fare il tergicristallo e lui non riusciva poi finalmente crossava al difensore vabbè riusciva eh cioè c'era l'uomo addosso si spostava continuava a spostarsi ad essa sinistra quello lo continuava a rimbalzare come una trotola alla fine riusciva a fare sto benedetto cross per nessuno poi hanno ha sbagliato la difesa subito della fiorentina prima occasione c'è avuto un pallone che scendeva bello preciso da tirare sotto l'incrocio dei pali lui cosa fa lo tira alto di mezzo metro io non dico tanto ma almeno la porta centramela poi dopo un'altra azione è andato avanti era sulla tre quarti provo a tirare perché no fuori di due metri c'entra la sta porta nella Lazio tiravi da casa tua prendevi l'incrocio dei pali segnavi da noi non segni neanche ha fatto un gol per grazia ricevuta uno in un anno e mezzo aprile del 2017 settembre col bologna cos'era già settembre settembre 2018 adesso segnerà nel forse a novembre 2020 sempre che gioca ancora per noi non ho parole guarda non ho parole poi mi dico no ma l'inter ha perso tanti palloni perché la fiorentina non ne ha persi tanti palloni nella sua meta campo c'era la font che ci dava i palloni a noi su quattro rimpie uno era fuori uno era giusto e due era palla nostra nella loro tre quarti e noi cosa facevamo arriva la palla lanciamola subito e la riprendevano loro tiriamo in porta e andava al terzo anello addosso a un difensore le occasioni vanno sfruttate quando le squadre sbagliano devi castigarle questa è una partita che con gli errori che abbiamo fatto sia noi che loro finiva 6 a 3 minimo se c'erano due squadre qui contro maroni che le occasioni che hanno e gli errori degli avversari li sfruttano noi no noi no noi non li sfruttiamo meno male gli è riuscito il triangolo ai cardi poi dopo gli abbiamo regalato il gol a loro perché screenia deve fare riccardo ferri la rinvio io in porta cavolo non puoi andare su un tiro che arriva col piattone sperando di rinviarla devi andare secco o di collo o se no ti metti lì con le gambine chiuse la respingi non vai col piattone a cercare di rinviarla perché 90 su 100 la svirgo l'importa mi ha ricordato gli autogolli bellissimi autogolli che faceva riccardo ferri ai bei tempi walter ci penso io pam in porta ricordano sempre un autogolli con la bellina andato in mezza rovesciata tira l'attaccante lui va in mezza rovesciata la svirgola sotto l'incrocio fantastico e screenia mi sa che si sta ferrizzando anche lui anzi non vorrei che si stia murigliando anche lui che il primo anno murillo fece un campionato della miseria come si cominciarono le vocine che dicevano che c'era il bayern interessato il barcellone interessato erano arrivate le offerte lui era lì già che bello me ne vado lì e invece la società l'ha tenuto lui ha fatto cagare al cazzo scusate il francesismo e adesso l'abbiamo spedito dove l'abbiamo spedito 12 13 milioni quello che è quindi non ha parole non ha parole spero di no spero di sbagliarmi ma anche i screen era uguale stanno arrivando le voci mica le voci lui no no io voglio restare all'inter mi trovo bene all'inter son felice all'inter esseri a rompere i maroni per il contratto giusto dagli 3 milioni no perché li vale però il giocatore che mi viene a dire no io voglio sono felice all'inter son contento all'inter non va a rompere le balle per avere più soldi se sei contento lo fai se sei scontento mi volete qua mi pagate di più perché sennò io me ne vado non ci voglia di stare qua ma se sei contento di stare in un posto perché devi chiedere ti hanno già dato l'aumentino no lui ne vuole tre dategli tanto sono 300 mila euro in più non mi sembra che l'inter gli offerti 27 lui ne vuole tre o tre due dategli però francamente quando sento sei un felice di stare qua poi quell'altro il capitano da volte i capitani e dan dal presidente gli dicevano presidente la cifra la metta lei sul contratto non è un problema no lui vuole otto milioni beh non lui la la sua senorita e giustamente qualcuno mi fa notare per quello che fa in campo detto oggi però il signorino ha fatto un gol e un assist quattro punti al fantacalcio finalmente per quelli che l'han comprato però signori i capitani di una volta davanti al presidente gli dicevano la cifra la metta lei e quando uscivano dicevano cacchio mi ha dato di più di quello che pensavo è che una volta si accontentavano di bei soldi eh adesso non si accontentano più comunque stiamo sulla partita partita che molti hanno detto e non è stata bella l'interno gioca bene cioè abbiamo vinto 2 a 1 c'è sempre da lamentarsi con noi non siamo il real madrid non c'è più ronaldo non c'è più simeone non c'è più mateus non ci sono più berti eccetera eccetera abbiamo questi stanno facendo quello che possono non c'è un uomo che salta l'avversario diretto perché perisic anche lui c'ha una ragione quando mi dicono perisic perisic non punto è ogni tanto lo lasciano in uno contro uno lui non ci prova lui non ci prova basso al falsolli per fa la solitazione va sul fondo in velocità e crossa non ci prova mai a driblarlo saltarlo eccetera l'unico che lo fa è Keita Balde il problema è che poi facciamo a bue perché anche stasera quando è entrato ne ha saltati due alla grande è arrivato sul fondo stanco morto scoordinato quello che è perché non è così semplice non è ronaldo ripeto è Keita Balde e ha fatto il corsettino che il portiere ha detto grazie è molto gentile adesso la rinvio e vabbè ragazzi purtroppo è così non è che dobbiamo arrivare in porta col fraseggio con le azioni veloci cercando di giocarla di prima qualcuno mi ha detto eh ma Brozovic perde un po' troppi palloni non è che Brozovic perde un troppo troppi palloni e ci fa fatica a uscire il problema è che come lui prende la palla c'ha subito se lui ha spazio può fare quei due tre passi in avanti puntare e liberare lanciare uno dei due esterni liberi lo fa anche bene se può lanciare avere il tempo di lanciare guardare lanciare qualcuno lo fa anche bene ma siccome gli danno la palla c'ha subito l'uomo ad osso e lui deve saltarlo è normale che faccia fatica poi debba ridarla indietro per evitare di perderla purtroppo è così aveva era lo stesso problema che aveva Pirlo quanti palloni ha perso Pirlo sia nel Milan che nella Juve che poi costavano dei gol o era costretto a farsi ammonire per seccare quello che gli aveva portato via la palla è un problema che hanno tutti il nuovo il gioco di moderno adesso è pressing a tutto campo quindi anche loro hanno perso boh avranno perso 10-12 palloni proprio perché l'Inter pressava e perdevano la partner sulla loro tre quarti noi non li abbiamo sfruttati loro non li hanno sfrutta anzi no loro l'hanno sfruttato perché nell'azione di chiesa palla persa palla chiesa tiro e vabbè poi scrignano ha voluto la rispando io lontano e ha fatto autogollonso cosa vogliamo fucilarlo succede basta che ne fa uno all'anno solo il problema è che l'ha fatta la sesta giornata di campionato quindi la cosa si fa preoccupante poi non lo so boh per il resto ha tenuto bene andanovic ha dovuto fare solo quell'uscita su simeone non che la font abbia fatto chissà che cosa anche perché manchiamo di precisione nei tiri anche quando sono lì in aree eccetera anche quando i cardi dettano un passaggio gliela danno di schifo l'unico pallone buono che ha preso se l'ha allungato troppo ha tirato ma essendo se l'ha allungato troppo gli è venuto un passaggio al portiere anziché un tiro dei suoi e c'è poco da fare cioè è andata bene abbiamo giocato la nostra onesta partita la fiorentina ha fatto la sua onesta partita a me è sembrata una fiorentina molto giovane infatti per quello vi dicevo ha sbagliato molto in fase difensiva eccetera nei rinvii nei rilanci proprio perché sono ragazzi tra virgolette ancora giovani e quindi qualche errore di gioventù ci può stare però gioca bene gioca bene l'abbiamo ribattuta bene quando venivano in attacco erano pericolosi non pericolosissimi hanno preso quel palo lì ma andanovic era lì non poteva finire se era in porta andanovic la prendeva io più che altro avevo paura che sul rimbalzo gli finisse sul coppino ad andanovic finisse dentro ma lui era lì con la manina e c'era il palo e la sua mano quindi per il resto non è che hanno fatto chissà chissà che cosa sì qualche azione eccetera chiesa è fortissimo lo sappiamo la juve l'ha già prenotato quindi è inutile che ci facciamo illusioni che l'inter possa prendere chiesa per un semplice fatto non abbiamo le potenzialità della juventus quindi economiche quindi se la juve va dai della valle a dirgli vi diamo 100 milioni per chiesa quelli glielo danno è logico che della valle chiesa sotto i 100 milioni sarà dura che lo vendono anche perché sta dimostrandosi di essere un signor giocatore che oggi ha trascinato la squadra poi magari esagera eccetera come nel caso del del presunto fallo di asamoa che per me ripeto una sua simulazione perché se letteralmente buttato però qualcuno mi dirà non è vero è stato fallo di asamoa benissimo prendo atto però per il resto è andato via scattava correva si dava da fare puntava l'uomo duettava coi compagni cercava di di creare gioco ecco è logico è in una squadra in cui che deve crescere deve crescere ancora parecchio però penso che nelle prime sette ci può arrivare ecco o se la gioca comunque è una buona squadra buon allenatore lo sappiamo purtroppo sappiamo benissimo pioli perché è stato cacciato via perché la squadra ha smesso di seguirlo ha già deciso di non andare in europa league quindi dopo il pareggio col torino hanno mollato e lui si è ritrovato a spasso però comunque un allenatore che sa far giocare bene le squadre sa allenare sa parlare ai giocatori quindi spero che l'abbiano accolto bene perché purtroppo al bar non è che riesce a capirci granché la vedi la partita benissimo però il commento c'è non c'è perché poi ci sono i sottofondo delle persone che non gliene frega niente della partita che parlano il sottofondo di quelli che invece parlano anche se gli frega della partita per parlare della partita quindi la segui non la segui la vedi benissimo vedi tutte le occasioni vedi vedi come giocano è stata una bella partita poi dopo qualcuno mi dice l'inter non gioca bene benissimo però se finché mi fa due gol e gli altri uno io ci faccio la firma è se da qua alle prossime 31 partite 32 l'inter fa due gol gli avversari uno io mi dite dove devo firmare che firmo va benissimo il caro lidon diceva prima di pensare allo spettacolo andiamo a 3 a 0 poi pensiamo allo spettacolo quindi mi va mi va bene che l'inter pensi a fare gol pensi a giocare a fare gol spettacolo lo lasciamo fare al napoli che loro sono contenti perdono ma hanno fatto spettacolo eccetera noi siamo abituati a portare a casa i tre punti di riffa o di raffa possibilmente senza avere rigori farlocchi che non ci sono eccetera oggi ve l'ho detto il mani c'era se tu vai con la mano larga è rigore punto ne abbiamo presi tanti col VAR l'anno scorso è di rigori così ricordo quello di Santon che era lì così su un pallone innocuo non c'era in mezzo nessuno quello ha preso la palla che pensava fosse fuori lui stintiva gli è finita sul braccio braccio leggermente largo non ce l'aveva così ce l'aveva così però gli è finita sul braccio rigore punto non puoi stare a discutere e questo era ancora più largo perché era alt fermatevi quindi mi spiace per la fiorentina ma questo è calcio di rigore bene parlato anche troppo ci sentiamo alla prossima ciao